Amici dei due minuti di gas, siamo qui a Fabriano, nell'head quota di Elica, con Antonio Recinella, il CEO del gruppo. Desidero ringraziarlo perché ci ha dedicato alla comunità OSA due ore, due ore e mezza di altissimo profilo manageriale. Raramente si trovano dei manager così aperti, ma soprattutto così istruttivi per noi, che andiamo a visitare le aziende e vogliamo sapere, capire i segreti, cercare di insomma... Il mio amico Francesco Casio mi ha detto che è bravissimo, bravo lei, brava Elica Satta, che purtroppo è la vicepresidente, che purtroppo è partita già per Milano e che salutiamo, ma devo dire che avete dato oggi un contributo veramente importante. A parte che la vieni da essere abitore, quindi è importante. Però volevo complimentarmi. Antonio è passato dal mondo dell'automotive al mondo delle carte. Allora, un salto gigantesco. Come ti trovi affabriano nel mondo delle carte rispetto al privilegi, l'aspetto umano? Sei tornato un po' più umano, diciamo, da questo punto di vista qua. Come erai, no? È vero, però fammi prima ringraziare me e voi per il piacere di avervi avuto qui. Insomma, è anche per noi un piacere confrontarci sempre con il mondo reale, il mondo dell'impresa, che è il mondo che produce, il mondo che deve per andare avanti il paese. Quindi sono io che ringrazio te e che ringrazio anche gli altri imprenditori. È stato davvero un piacere confrontarmi le nostre idee con le vostre. Sì, Fabriano è stata una scelta fondamentale. Devo dire che sicuramente l'energia di Francesco Casoli mi ha preso, mi ha coinvolto, mi ha affascinato, mi ha portato dentro a sposare con anima e cuore questo progetto. Sicuramente la vita nel mondo delle cappe è diversa dal mondo dell'auto. C'è più rispetto, c'è più energia positiva rispetto a un mondo, quello dell'auto, che è veramente complicato. La vita a Fabriano è eccezionale, una natura fantastica, un paese molto carino, le macchine, una regione piena di intraprendenza, piena di voglia di fare. Quindi felicissimo della mia scelta. Convinto e contento. Convinto e contentissimo e sempre più motivato. Bene, amici, allora noi vi salutiamo, vi do un consiglio. Se avete la possibilità, modellate manager, ma soprattutto persone di questo genere. Perché lo conosco da poco, no, devo dire, lo conosco da poco, ma ho visto la filosofia imprenditoriale, veramente, Francesco hai fatto una scelta strapietosa. Adesso andiamo all'ep hour perché a giusta conclusione di una visita aziendale c'è un aperitivo. E grazie a Giulia che ha fatto anche il video. Grazie, grazie tanto. No, grazie a te veramente.